50 anni di Cogeme, in realtà 51, perché il mezzo secolo si festeggia con un anno di ritardo per le restrizioni dettate dalla pandemia. A celebrare il prestigioso traguardo un convegno ha rovato nella sala del pianoforte del comune. Cogeme ha sede a Rovato, ma in realtà fornisce servizi a decine e decine di comuni. Rovato è orgogliosa naturalmente di avere questa società che ha in qualche maniera dato tanto al territorio, ha restituito tantissimo al territorio in termini di occupazione, in termini di servizi, in termini di dividendi. È un'occasione per ragionare su cosa siamo e cosa vogliamo fare, ha spiegato il presidente di Cogeme, Dario Lazzaroni, durante la tavola rotonda introdotta dal presidente di Fondazione Cogeme, Gabriele Archetti. Abbiamo grande attenzione alla qualità dei servizi, ha detto ancora, il futuro è lavorare sulla qualità e distribuire utili. Cogeme è un punto di riferimento per i territori, per l'economia circolare, per una molteplicità di servizi che ha reso e che stiamo tornando a rendere e che in una continuità storica con la vicinanza al territorio. Un modo diverso rispetto ad altre realtà di rendere questi servizi proprio perché non è mai stato disancorato da una presenza territoriale forte. Tema della tavola rotonda al futuro delle multi-utilities in un giorno che segna i festeggiamenti per il traguardo raggiunto del mezzo secolo di vita. La lungimiranza di quei tempi ha portato in quel periodo a costituire una società per la metanizzazione dei comuni della Franciacorta e credo che da allora bisogna imparare qualcosa. Nella giornata che celebra i 50 anni di Cogeme è anche una mostra allestita all'interno della sala del pianoforte con pagine di storia del paese. Grazie.